guerra in ucraina si mobilita la solidarietà dei pesaresi giovane milanese trovato morto in un albergo di pesaro sosta in stazione chiude il parcheggio di porta cappuccina applausi a baia flaminia per i geni del cubo di rubic colà a pecchio carpegna arriva il grande ciclismo della tirreno adriatico buona serata benvenuti al nostro telegiornale di lunedì 28 febbraio che apriamo dedicandoci alla crescente mobilitazione della comunità pesarese verso il popolo ucraino sconvolto da questa prima settimana di guerra dal comune alla protezione civile dalla caritas alle farmacie sono tantissime le iniziative di sostegno che vi presentiamo in questo primo servizio si mette in moto la solidarietà pesarese a sostegno del popolo ucraino la caritas diocesana organizza infatti una raccolta fondi per sostenere la popolazione attaccata dall'invasione bellica russa una raccolta fondi con tanto di coordinate bancare pubblicate sulla stessa pagina facebook della caritas diocesana di pesaro caritas che precisa che al momento non può però raccogliere coperte indumenti o farmaci non potendo garantirne la modalità di consegna in territorio ucraino raccolta di indumenti e calzature che invece può essere effettuata in favore dei profughi ucraini che verranno in italia ad organizzarla sono i venditori ambulanti del mercato di pesaro che domani primo marzo dalle 9 alle 12 raccoglieranno questi materiali donati dalla cittadinanza proprio durante il mercato settimanale del martedì da mercoledì 2 marzo invece il comune di pesaro e la protezione civile attiveranno un numero di telefono e una mail sos ucraina alle quali i cittadini potranno rivolgersi l'obiettivo è coordinare gli aiuti le donazioni e le offerte di alloggio che stanno giungendo da tutta la città sin dal primo giorno di guerra solidarietà anche dalle nuove farmacie comunali di pesaro e da quella di gabice mare dove fino all 8 marzo si potrà partecipare la campagna benefica che prevede che per ogni prodotto acquistato dai cittadini in favore della popolazione ucraina come bende garze cerotti o sciroppi per la tosse o tachipirina uno identico verrà donato anche dalle farmacie comunali tutti i beni raccolti verranno poi consegnati in ucraina grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e della protezione civile intanto pesaro ha fatto sentire il suo sostegno alla comunità ucraina nella partecipata fiaccolata tenutasi venerdì in piazzale lazzarini pesaro sta dalla parte della democrazia della libertà e della pace del popolo ucraino condannato con questa bella partecipazione nonostante il mal tempo nettamente l'invasione russa così come si sta facendo in tantissime città italiane ciò che è accaduto inaudito che è un paese violi la sovranità di un altro stato invada quel paese in maniera unilaterale in maniera del tutto ingiustificata ed è un attacco alla democrazia la libertà non soltanto al popolo ucraino quindi chiediamo da parte del governo da parte dell'europa e delle occidente grande unità grande nettezza nelle sanzioni che devono essere le più pesanti possibili e al tempo stesso chiediamo a putin il cessate il fuoco perché il popolo ucraino sta morendo sotto le bombe arrivano notizie di tanti morti di tanti feriti e quindi come dire parallelamente alla nettezza sulle sanzioni dobbiamo continuamente chiedere il cessate il fuoco e l'interruzione dell'invasione sono giorni davvero drammatici nessuno di noi pensava di poterli vivere nel cuore dell'europa ma dobbiamo reagire e credo che l'europa reagirà molto unita anche perché a rischio non soltanto la libertà ucraina e rischio il concetto di democrazia la sovranità degli stati il concetto di libertà in europa in tutto il mondo il ringraziamento del sindaco di pesaro matteo ricci che ha organizzato questa fiaccolata io sinceramente sono colpita da parole che lui ha detto perché ha detto le robe giuste che bisogna prendere combattere a un nemico insieme a tutti i fronti e prendere le sanzioni più più grosse perché l'europa è in pericolo ancora dobbiamo capire di che cosa abbiamo bisogno perché la situazione è veramente grave e non capiamo di che cosa abbiamo bisogno però noi siamo ci stiamo mobilizzando sì speriamo che non sono solo le parole ci sono anche i fatti non solo a pesaro venerdì scorso manifestazioni contro la guerra in ucraina si sono svolte anche a montecchio di valle foglia in piazza della repubblica tra le autorità presenti al sit in di pace e condanna verso ogni forma di aggressione il sindaco di valle foglia palmi rucchielli il vice sindaco di tavuglia laura macchini e il primo cittadino di montbaroccio emanuele petrucci ed ora passiamo alla cronaca un milanese di 32 anni infatti è stato trovato morto questa mattina in una camera dell'hotel san marco di pesaro dove era arrivato la sera prima chiedendo di alloggiare per motivi di lavoro questa mattina avrebbe dovuto lasciare la camera ma la cameriera alle 10 30 ha bussato senza ricevere risposta e così ha aperto la camera col passepartout trovando l'uomo a terra senza vita indagano i carabinieri per appurare un'eventuale presenza di farmaci o sostanze stupefacenti nel corpo del ragazzo 24 ore prima i pompieri e la polizia di urbino avevano invece trovato morto nella propria abitazione di urbino un uomo di 56 anni che da giorni non rispondeva alle telefonate dei conoscenti si sospetta l'infarto come causa di un decesso novità nella campagna vaccinale di prevenzione anti covid da domani anche nei punti vaccinali di fanno e urbino e da mercoledì in quello di pesaro potrà essere somministrato il nova vax il nuovo vaccino proteico la cui composizione è gradita ad una parte di cittadini novax il nova vax è stato appena distribuito nelle marche ma per ora si sono registrate meno di 200 prenotazioni domani invece all'ospedale di muraglia partirà la somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid riservata ai soggetti fragili e immunodepressi rischia di cambiare radicalmente la sosta in prossimità della stazione di pesaro dove da giovedì si perderanno i circa 200 posti auto di porta cappuccina i motivi di questa privazione ci vengono spiegati nel prossimo servizio gentili signori vi comunichiamo che da giovedì 3 marzo il parcheggio verrà recintato e non sarà permesso a cedervi per quella data dovrà trovarsi libero da persone o cose grazie cordiali saluti firmato porta cappuccina e questo il testo riportato in due cartelli che si trovano qui all'ingresso del parcheggio di porta cappuccina siamo a fianco al cavalca ferrovia di pesaro tra il parco miralfiore e la stazione ferroviaria che si trova alla nostra sinistra e c'è questo cartello che dice come quest'area di sosta sempre molto frequentata dai pendolari da giovedì verrà chiusa da giovedì non sarà più utilizzabile e non saranno più utilizzabili circa 200 posti auto presenti in questa area basta guardarsi intorno anche oggi a mezzogiorno un parcheggio pieno in tutta in tutta la sua area che dunque verrà sottratto a beneficio del centro e della ferrovia si tratta di una chiusura figlia di una storia vecchia di 30 anni trascinata si succomodati d'uso del comune scaduti e fra accordi mai perfezionati fra lo stesso comune di pesaro e la società porta cappuccina che è la proprietaria dell'area la società infatti ha inoltrato ricorso al tar chiedendo al comune un milione di euro di danni questo perché in passato il comune si era impegnato all'acquisto con un accordo che fissava il prezzo dell'area in 515 mila euro subito invece la revoca della determina e l'atto fu impugnato da porta cappuccina davanti al tar e mentre se ne attende l'esito il comune ha occupato questa area senza mai versare un euro per l'occupazione un tiremolla che dunque arriva a una presa di forza da parte della controparte che da giovedì decide di transennare tutta l'area una questione mai risolta sulla quale anche l'opposizione in consiglio comunale attraverso i consiglieri Andreoli e Biagiotti ha presentato un'interrogazione urgente per capire quali sono le strade percorribili per mantenere questa area strategica una situazione in mano agli uffici legali del comune e comunque andrà i tempi non saranno brevi e invece si cerca una soluzione più celere per garantire il respiro alla sosta della cittadinanza fra le soluzioni alternative per garantire la sosta potrebbe esserci quella che vedete alle nostre spalle questa area compresa tra la stessa porta cappuccina e la ferrovia che è stata acquisita dal comune e recentemente ripulita bisognerebbe aspettare l'asfaltatura ma in queste condizioni non è da escludere che si arrivi ad un'accelerata per dare a disposizione della cittadinanza questa area di sosta. E continua a restare altissima la preoccupazione degli operatori balneari che dal primo gennaio 2024 vedranno lo stop alle proroghe delle concessioni demaniali una categoria per la quale si sta mobilitando anche la politica a cominciare da Fratelli d'Italia che nei giorni scorsi ha affrontato la problematica con un convegno all'hotel Excelsior. Vediamo. Non rimanere inerti di fronte al rischio di vedere le nostre spiagge in mano a multinazionali che toglierebbero l'anima e l'italianità al settore e non restare con le mani in mano davanti al rischio di interessamento della malavita organizzata alla quale non mancherebbe la liquidità per accaparrarsi la gestione delle spiagge. Preoccupazioni che Fratelli d'Italia a Pesaro ha esternato a Chiarelettere in un convegno organizzato nel weekend all'hotel Excelsior. Convegno che ha visto Fratelli d'Italia schierarsi al fianco degli operatori balneari marchigiani messi all'angolo dalla contestata direttiva Bolkenstein che dopo il recente pronunciamento governativo che ha applicato lo stop alle proroghe delle concessioni metterà le spiagge a libero mercato dal primo gennaio 2024 compromettendo la decennale attività di una imprenditoria specifica del nostro territorio. È un tema troppo importante per la nostra città, noi dovevamo subito cercare di dare delle risposte e quindi non potevamo rimandare ancora al prossimo o altri periodi. Con Nicola Baiocchi e il coordinamento peserese di Fratelli d'Italia sono intervenuti da remoto l'eurodeputato Nicola Procaccini e il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione attività produttiva alla Camera Riccardo Zucconi che hanno integrato gli interventi dall'Excelsior dell'Onorevole Lucio Albano e dei consiglieri regionali Elena Leonardi e Carlo Ciccioli. La prima soluzione è ovviamente quella giuridica, la soluzione giuridica deve essere sostenuta dallo Stato per fare i ricorsi e quindi ricorrere a salvaguardia dei diritti che ci sono e comunque una diversa impostazione. Una cosa inaccettabile è stata che in Italia è il Consiglio di Stato che decide sul potere, la magistratura è un organo giudicante, ma il materiale del giudizio, cioè le regole le deve stabilire il legislativo, il Parlamento, è uno di quei casi in cui l'amministratura è sonda e attraverso delle correnti precise, politicizzate e talvolta delle spinte molto forti di settori di poteri che vengono non dalla decisione popolare, elettorale, cedano poteri che sono all'interno dei palazzi, ha deciso in un certo modo, scavalcando addirittura quello che dal punto di vista proprio giuridico, dei fondamentali giuridici, è inaccettabile. Però così è e il materiale del ricorso è che è importantissimo fare il ricorso, ma anche se hai ragione bisogna che trovi il giudice che ti dà ragione. Furto nella notte tra sabato e domenica al Conad di Vallefoglia in via Giacometti, dove intorno alle 23 alcuni ladri si sono dileguati con un bottino superiore a 3.000 euro. I malviventi hanno svuotato il fondo cassa composto da 18 cassette di contanti. Ad accorgersi dell'ammanco il primo dipendente è arrivato al supermercato attorno alle 5.30 di mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pesaro che stanno indagando per risalire agli autori del colpo. È stata chiusa l'attività di un autolavaggio di Gabbicemare dove i carabinieri e l'ispettorato del lavoro hanno trovato del personale lavorare in nero, oltre a riscontrare gravi violazioni in termini di sicurezza. Sono state elevate ammende e sanzioni per un valore superiore ai 10.000 euro. Domani sarà un martedì grasso in tono minore per il Carnevale di Fano senza sfilate ma con diverse iniziative. Alle 14 in piazza 20 settembre è previsto uno spazio dedicato al piccolo mercatino di Carnevale con stand di dolci tipici e maschere carnevalesche. L'appuntamento centrale è alle 17.30 quando verrà recuperata la presentazione del carro Fano la Divina a cura del liceo Nolfi a Polloni. Il corteo partirà da piazza Costanzi per arrivare in piazza 20 settembre dove alle 19 ci sarà la cerimonia di chiusura della settimana grassa col tradizionale rogo del pupo. A partire da domani 1 marzo la biblioteca oliveriana di Pesaro estende gli orari di apertura al pubblico. Le sale lettura saranno disponibili con un orario continuato anche nelle giornate di martedì e mercoledì dalle 9 alle 18.30. E questo weekend si è tenuta la prima edizione di Pesaro Open dedicato ai giovanissimi maestri della risoluzione del cubo di Rubik. Una nuova rassegna che ha riscosso ottimi riscontri, ottimi consensi e che punta ad essere replicata in città anche in futuro. Con 8 secondi e 19 decimi di media è Daniel Sartori il nuovo campione del cubo di Rubik che al torneo Pesaro Open 2022 ha sconfitto la concorrenza di 100 avversari. Lui ha 15 anni, viene da Trento e domenica pomeriggio è stato incoronato vincitore di due giorni intensi di gare alla ricerca del tempo perfetto. Gare che si sono svolte nel salone dell'hotel Flaminio di Pesaro dove oltre ai partecipanti si sono radunati anche tanti appassionati per assistere alla magica risoluzione del rompicapo. Quella del cubo di Rubik è una disciplina che presenta diverse varianti e Daniel Sartori ha chiuso il primo posto nella categoria 3x3. Mi sento molto felice e emozionato, sono arrivato terzo quest'estate a una gara e questa è la prima volta che arrivo prima e devo dire che non me l'aspettavo però alla fine ce l'ho fatta. Penso che mi allenerò ancora di più al 3x3 perché così sono più motivato a migliorare e a vincere altre volte magari. Ho fatto 8 e 19 di media, ho fatto un 2-7 all'inizio, poi un 9, un 8 e un altro 7. Presenti in gara anche tre pesaresi che sono stati di grande aiuto nell'organizzare il torneo in città. È decisamente stata una bella esperienza nonostante sono sicuro che sarebbe potuta andare ancora meglio di come è andata però devo dire che per certi versi mi ritengo soddisfatto, per altri no però devo dire che me la son cavata peggio del previsto ma comunque in modo da uscire vincitore. Devo dire che la sensazione di essere campione alla fine potrei dire di essermici abituato perché essendo dal 2019 che lo sono diciamo a livello italiano almeno non mi dà più quella ecstasy che magari mi poteva dare all'inizio però è comunque sempre una bella sensazione essere confermati. Alla premiazione hanno assistito anche il vice sindaco Daniele Vimini e l'assessore allo sport Mila Dell'Adora. In dieci minuti le iscrizioni diciamo si sono chiuse, erano 100 il numero dei partecipanti che era stato imposto per questa competizione. È la prima che ospita la città di Pesaro e l'augurio è quello di rispitare anche a breve un campionato italiano. Noi ci serviva come città, noi gli organizzatori, il Cubing Italia che ringrazio per la collaborazione e per la voglia di investire nella nostra città. Vorremmo ospitare appunto anche un campionato italiano e perché no magari anche qualcosa di più però l'importante era partire, dimostrare che la città si presta ad accogliere competizioni anche quelle riferite al Cubo. È uno dei primi campionati legati al Cubo di Rubiche che riprendono dopo la sosta causata dalla pandemia e c'è stata una bellissima risposta di pubblico, un pubblico giovane ma non solo, anche famiglie a seguire le gesta dei vari campioni. Ci ha dato anche fiducia nel ragionare con gli organizzatori anche per prossime manifestazioni di carattere nazionale e perché no internazionale, ci sono in gioco anche i campionati europei del 2024, qui potersi candidare. E continuiamo a parlare di eventi, in questo caso un evento sportivo perché l'entroterra pesarese si prepara ad un grande evento sportivo appunto di livello internazionale. Il 12 marzo il grande ciclismo arriva sulle salite della provincia per la penultima tappa della Tirreno Adriatico che partirà da Pecchio con arrivo a Carpegna, un evento che è stato presentato in anteprima sabato al Palazzo dei Principi di Carpegna alla presenza di tante leggende del ciclismo, evento che potrete poi approfondire con uno speciale dedicato che andrà in onda questo mercoledì alle ore 21.20. Intanto ecco qualche anticipazione in questo prossimo servizio. Oggi Rossini TV è a Palazzo dei Principi a Carpegna perché viene presentata la sesta tappa a Pecchio Carpegna della gara ciclistica internazionale, la Tirreno Adriatico, che si terrà proprio il 12 marzo. Il primo di agosto che è partita l'idea e durante tra l'altro un evento che c'è stato qua a Carpegna, anche quello molto importante che ci ha dato parecchia visibilità è Eccellenza di Palazzo. In quell'occasione il mio assessore Luca Pasquini e l'ex sindaco Angelo Francioni che tra l'altro adesso è anche il presidente del comitato tappa, hanno lanciato l'idea al consigliere Giacomo Rossi. Lui se l'è presa a cuore, ci ha seguito passo passo e grazie chiaramente all'appoggio della regione e poi al coinvolgimento degli altri comuni siamo riusciti ad avere questa tappa che si svolge tutta nel territorio pesarese, quindi direi che dà lustro a tutta la provincia e quindi con il collega sindaco di Apecchio poi chiaramente ci siamo interfacciati per tutto il periodo e con gli altri comuni nei quali passa il percorso e siamo riusciti insomma tutti insieme ad avere questo importante risultato. Chiaramente questo è il primo step, questa presentazione, ce ne saranno tante altre nei vari territori e poi si arriverà al giorno fatidico del 12 marzo sperando che sia una giornata, una bella giornata dal punto di vista meteorologico perché ci aiuterebbe tanto. Una sfida che ho voluto raccogliere è nata proprio qua quest'estate a Carpegna, ho perorato questa causa in regione e grazie a una sinergia tra regione e antilocali, comunità montane, comune e si è potuta arrivare a ciò, quindi una tappa importantissima per il nostro territorio che sarà una vetrina importante prima della stagione estiva per tutto il nostro territorio perché è una tappa che attraversa tutta la provincia di Pesaro Urbino, quindi un appuntamento non solo sportivo ma pubblicitario importante. Il territorio Adriatico è sempre stato una corsa difficile perché viene all'inizio della stagione, tutti la correvano almeno ai nostri tempi in funzione della Milano Sanremo, adesso è importante anche vincere il territorio Adriatico, ci sono sempre un bel campo di partenti perciò quando ci sono i corridori importanti vincere è altrettanto importante, poi dopo credo che nella testa dei big diciamo c'è sempre la Sanremo. Ed ora il nostro consueto spazio dedicato allo sport del lunedì dopo un weekend particolarmente gratificante per Vispesaro e Pesaro Rugby. Conquistati 38 punti in classifica, la Vispesaro vede virtualmente chiuso il primo obiettivo stagionale. A nove partite dalla fine del campionato e con 11 punti di vantaggio sulla zona play-out, i biancorossi hanno seriamente ipotecato il discorso salvezza. Un risultato straordinario ottenuto già a febbraio in netta discontinuità con le ultime stagioni in affanno. Ipoteca salvezza che arriva grazie ad una delle migliori prestazioni stagionali valse la vittoria 2-1 contro l'Entella, quarta forza del torneo. Prova di qualità e di carattere della Vis che va sotto nel punteggio dopo 10 minuti su calcio d'angolo monetizzato da testa da Coppolaro, ma gioca un signor secondo tempo che vale la rimonta grazie alle reti di Marcandella e Cannavò. I giocatori sono stati fantastici soprattutto nel credere a quello che poteva essere l'evoluzione e poi il finale della partita perché era chiaro che non volevano perdere ma soprattutto che volevano, come hai detto tu, continuare a stare propositivi, attivi e convinti di quello che stanno facendo. Questo è sicuramente un aspetto che mi porta a orgoglio. Salvezza ipotecata ma ora non ci si accontenta e si punta ai play-off. Parola di Capitan Gavazzi. Noi siamo una squadra che secondo me non può fare calcoli, non può fermarsi a guardare la classifica come ho sempre detto. Siamo semplicemente una squadra che deve lavorare, che deve cercare di raccogliere il massimo da ogni partita e dopo a fine dell'anno faremo le nostre valutazioni, vedremo dove siamo arrivati. Però è una squadra nostra così giovane, così a tratti ma anche un po' inesperta che non può permettersi di far calcoli. Noi dobbiamo lavorare settimanalmente, cercare di raccogliere quello che possiamo tutte le domeniche senza far calcoli. Dopo tra un mese o un mese e mezzo vedremo. Bene la Vis, malissimo il Fano, sempre più risucchiato nella zona play-out della Serie D dopo la sconfitta 1-0 rimediata in casa del Matese. Domenica molto gratificante invece per la Fiorini-Pesero-Regbi che ritrova quella vittoria al Toti-Patrignani che tra le mura amiche mancava dal periodo pre-pandemico. Vittoria importante e netta. Napoli viene domata 34 a 7. Da due anni che non vincevamo con casa, lo abbiamo parlato prima, era uno degli obiettivi vincere e preparare meglio la prossima partita. Quindi sono contento, abbiamo fatto tanti punti, potevamo fare di più ma è andata così. Con questo vento non è mai semplice giocare e niente, abbiamo vinto bene, abbiamo fatto punti, abbiamo difeso tutta la partita bene salvo l'ultima occasione, quindi sono soddisfatto. Qualche giorno prima aveva assaporato il gusto della vittoria ritrovata anche l'Ital Service che venerdì sera al Palafiera aveva battuto 2-1 la Camedosson con le reti di Taborda e Canal. Dal calcio 5 al volley la Megabox Vallefoglia, orfana della capitana Kosleva, reduce dalla rottura del legamento crociato del ginocchio, lotta per 4-7 ma a Durbino deve cedere 3-1 al Bisonte Firenze. Infine la VL che ha trascorso un altro weekend a braccia concerte per la sosta prolungata degli impegni della Nazionale ma resta vigile sul mercato. Si cerca infatti il sostituto di Tyler Larson che si è appena accasato a Reggio Emilia. Ed ora vediamo qual è il menu di questa sera su Rossini TV, così come tutti i lunedì torna una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute alle 21.20 collegatevi perché ci sarà con noi il dottore Ignazio Borghesi che è medico chirurgo specialista in neurochirurgia che ci parlerà delle patologie della colonna vertebrale. A seguire subito dopo vi trasmetteremo appunto questa bella partita di Pesaro Rugby contro il Rugby Napoli a Fragola che si è disputata appunto questo weekend. Noi l'abbiamo ripresa e ve la facciamo vedere alle 21.30. Invece domani torno all'appuntamento con la nostra rassegna stampa quindi vi aspetto in diretta alle 7.20. Buona serata.